presentati qui, ti affronto io, presentati qui, voglio parlare apertamente, abbiamo diritto, le azioni di questi signori vanno a pensare sulla popolazione, la nostra Costituzione prevede l'obbligo di assumersi la responsabilità, in qualunque modo vogliate disciplinarla, non può fare il malandrino a casa nostra, non può ridurci a delle larve umane. Grazie a tutti. Sono fortunata, l'ho beccata, mi piacere, auguria. Scusi. Non ci posso credere, ho avuto fortuna di rileccarlo proprio adesso. Wow! Allora... 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 Allora...